E adesso è il momento del campionato di eccellenza, altro giro, altro live che questa volta ti richiamo al Canosa Mario. Saluto e ringrazio Gianco Francavina, direttore sportivo del Canosa, neo direttore sportivo dei Rosso Blu che ritrovo dopo un po' di tempo con grande piacere. Ciao Gianco, ben ritrovato, grazie per la disponibilità. Buonasera e grazie a voi. Gianco, ti chiedo come è nata l'opzione Canosa per te? È nata da una telefonata che mi ha fatto il presidente Alessandro Di Nonno, dove mi ha prospettato la voglia di fare un progetto importante. Sinceramente Mario non ci ho pensato un attimo, abbiamo parlato mezz'ora e ci siamo praticamente trovati su tutto. Ho accettato questa sfida, questo progetto con un entusiasmo pazzesco. Direttore sportivo del Canosa nuovo, Gianco Francavina che è in diretta con noi, presidente del Canosa altrettanto nuovo, Alessandro Di Nonno che abbiamo avuto in collegamento poco tempo fa. Ci racconti che potenzialità, che ambizioni hanno questi nuovi dirigenti, in particolare il presidente Di Nonno? Allora, il presidente come ho detto in precedenza ha un entusiasmo pazzesco, è la passione, la passione che lui ci sta mettendo giorno dopo giorno in questo progetto. Vogliamo fare bene Mario, vogliamo fare bene, è chiaro che nel fare bene comunque ci sono molti ostacoli da superare perché comunque stiamo strutturando la società dall'A alla Z e tu sai benissimo che nel momento in cui si programma, ci si organizza in un certo modo, voglio dire, passa del tempo, ma di sicuro saremo una squadra che non starà a guardare, vorremmo fare bene, possibilmente meglio dello scorso anno e cercare di arrivare insomma dove per il momento non ci siamo prefissati, voglio dire, nessun obiettivo, ma vogliamo fare bene, questo è poco mai sicuro. Presidente nuovo, direttore sportivo nuovo, allenatore vecchio perché avete confermato in panchina Gino Zinfolino, ormai un veterano e della panchina dei Rosso Blu Canossa che parteciperà per il terzo anno consecutivo al campionato di eccellenza, perché avete scelto la continuità per quanto riguarda la guida tecnica? Perché io sono sicuro che Gino, il mister Zinfolino, è una persona che messa in condizioni giuste, con le motivazioni giuste, sia un ottimo allenatore per la categoria, perché ha carattere, gioca in modulo che sinceramente a me piace, poi lui voglio dire è di Canossa, diciamo che è di casa, però a prescindere da quello io insieme al Presidente abbiamo scelto lui perché lui secondo me è quello che può traghettare meglio una squadra e una società come il Canossa. Focus sull'organico, si parte da tre certezze e da altre tante riconferme, Leonardo Caputo, Canosino Doc, l'argentino Thomas Perez e Nicola Salvemini, vuoi annunciare o magari darci qualche altra indiscrezione sull'organico che stai costruendo? Allora, fermo restando che ci saranno un altro paio di riconferme, questo adesso lo decideremo in settimana. Per quanto riguarda l'organico, Mario, voglio portare rispetto per i giocatori che sono di appartenenza di altre società, visto che è considerato che entro il 30 giugno possiamo tranquillamente annunciare i nuovi acquisti. Ti posso soltanto garantire che la squadra è in costruzione avanzata, molto avanzata, quindi abbiamo le idee chiare, ci siamo mossi prima su tutto, quindi penso che di fare bene e arrivare comunque in ritiro con la squadra almeno fatta al 90%. Anche per qui non c'è fretta, Gianco, noi saremo qui per l'estate a raccontare di calcio, ma soprattutto di mercato. Obiettivi? Mi hai già parlato, ovviamente lo squadra che non sa che non si porrà limiti, ma vorrà ragionare di partita in partita. L'eccellenza sarà complicatissima perché ci saranno tante retrocessioni, poi sarà l'ultima eccellenza con il format a due gironi da 24, il prossimo anno si passerà al gironico a 20, sino poi ad arrivare al 2026-2027 con il format a 16. C'è una differenza che però riguarda gli under, non più tre, obbligo di schierarne due, invece è un 2003-2004, cosa cambia nell'equilibrio di questo campionato? Secondo me nell'equilibrio del campionato ti posso garantire che il livello si alzerà sicuramente, perché voglio dire, nell'avere due under ti portano comunque squadra a sei o sette da tenerni. Però calcolando che l'anno scorso ne erano tre in eccellenza e ne dovevi tenere 9-10, è chiaro che adesso gli over in campo ce ne sono di più, quindi secondo me il livello si alzerà di parecchio, partendo dal presupposto anche che ci saranno 5-6 barra retrocessione, quindi che è tutto dire. A me non piace questa scelta dei due under anziché tre, perché poi li evitano inevitabilmente anche i costi di gestione, ma non parliamo del canosa, parliamo in generale dell'eccellenza, non so se sei d'accordo. Sì, hanno lasciato quattro under in serie D e due in eccellenza, potevano anche fare quattro e tre, come non sono d'accordo neanche sul fatto che comunque nei 2002 in serie D non si è più under. E adesso il discorso è che o si è bravi in eccellenza, parlo tra 2003 e 2004, altrimenti diventa difficile adesso anche per gli under trovare squadra, perché paradossalmente prima erano i primi acquisti da fare, adesso ce la stiamo prendendo un po' con calma sinceramente, visto che sono solo due che scendono in campo, e due ce le abbiamo già in casa, uno è Salvemini, giocatore che io stravedo, e l'altro al momento, non posso dirti Mario, perché stiamo agli ultimi dettagli. Direi nei prossimi giorni, è stato davvero un piacere rivederti e risentirti, grazie Gianco Francavilla, il mio direttore sportivo del canosa, e naturalmente buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Ciao, ciao Gianco.